Ok, allora riprendiamo quest'oggi dove ci siamo lasciati diciamo di mercoledì scorso sul tema degli algoritmi, la presentazione di algoritmi, ricordate che insieme avevamo ragionato sul problema del massimo comunivisore e nella videolezione sui diagrammi di flusso invece ho provato a giocare un pochino con le equazioni di secondo grado. Adesso ragioniamo un po' su quello che abbiamo fatto e poi cerchiamo di andare avanti. Prima di entrare nel vivo però vi ricordo che abbiamo definito le squadre di laboratorio che inizierà mercoledì, quindi questa settimana, mercoledì e giovedì. Mi hanno fatto notare che questa descrizione non era autoesplicativa come pensavo e quindi spendiamo due parole per dire che voi siete divisi in tre squadre sulla base del vostro cognome. Queste tre squadre sono allocate in giorni e luoghi diversi e quindi tutti coloro i cui cognome dal punto di vista dell'ordine alfabetico viene dopo questa stringa e prima di quest'altra verranno, quindi dovete vedere il vostro cognome se doveste cercarlo in un dizionario se viene prima o dopo queste paroline che non corrispondono al cognome di nessuno, sono delle iniziali. Voi non lo sapete più, una volta c'erano le enciclopedie con 48 volumi e allora c'erano l'enciclopedia in cui c'erano le voci dalla AA alla BC e quindi c'erano dei range di lettere all'interno delle quali ricadano il vostro nome. La prima esperienza di laboratorio viene fatta nella squadra 3 che è posizionata il mercoledì, quindi chi è praticamente nella parte finale dell'alfabeto di questa aula dovrebbe venire mercoledì alle 16 mentre invece chi è nella parte iniziale, nella parte mediana dell'alfabeto può venire giovedì mattina in uno o nell'altro turno rispettivamente. Confermatemi solo che non avete altre sovrapposizioni con analisi chimica o altre cose, solo col calcetto, va bene. Il luogo è diverso, nel senso che il mercoledì, che è un pochino più scomodo perché avviene la sera, verrà in un posto un pochino più comodo perché l'Aib 1 si trova qua sopra, aspetta, là sopra, comunque dall'ingresso principale salite giù al secondo piano a fianco dell'aula 1, quindi adesso noi siamo nel lato pari, aula 4, dovete andare nell'altra ala, a fianco dell'aula 1 vedete che c'è una scala che sale, indica l'Aib, al secondo piano c'è questo laboratorio informatico. Mentre invece coloro che sono nei turni del giovedì si va nel laboratorio 2B che non è vicino al 2, al laboratorio 2, ma è completamente da un'altra parte, B sta per via Boggio, via Piercarlo Boggio che è la via che sta dietro al cantiere del Politecnico, praticamente il corso Ferrucci, dove ci sono le aule M, quindi voi dovete entrare nel fabbricato delle aule M, M come mensa, infatti si chiamano così perché lì una volta c'era la mensa delle ferrovie e all'interno di queste c'è l'aula 3M, 5M eccetera eccetera e poi ci sono dei laboratori in punta nel fondo del corridoio o all'inizio dipende da dove entrate che si chiamano l'Aib 1B, 2B, 3B eccetera. In linea d'aria non è molto lontano ma c'è il cantiere in mezzo che vi obbliga praticamente a uscire dalle aule R e rientrare, non so se avete già fatto questo giro, chi normalmente gravita su quella zona lo odia già, oppure se arrivate da fuori potete entrare direttamente da Corso Ferrucci, via Boggio. Quindi mi raccomando non andate all'Aib 2 dicendo qua dovrebbe esserci informatica se no vi guardano strani. Ok, nei laboratori andrete a svolgere il testo che vi abbiamo pubblicato venerdì, noi tutti venerdì salvo incidenti cerchiamo di pubblicare il testo per la settimana successiva, vedrete che i testi dei laboratori sono sovrabbondanti, non ce la farete normalmente a finirli nel nell'ora e trenta a disposizione, ma va bene perché così vi lasciamo qualche cosa con cui potervi anche esercitare a casa e non solamente all'interno del laboratorio. Quindi per noi è normale che di quegli esercizi ci siano alcuni che riuscite a fare lì, magari qualcuno riesce a fare più esercizi altrimenti in funzione della vostra velocità di lavoro, ma questo va bene, ci sta, e altri esercizi invece ve li portate a casa, ci potete lavorare in tutta la settimana. Noi poi sempre il venerdì di questa settimana vi pubblicheremo su Telegram un sondaggio per chiedervi qual è l'esercizio che vi ha dato più filo da torcere, quindi voi potete rispondere entro il lunedì della settimana successiva, così nell'ora di laboratorio o di lezione della settimana prossima svolgiamo insieme l'esercizio che avete percepito come più difficile o più problematico. E questo lo faremo, cercheremo di mantenere questo ritmo ogni settimana, così non vi sganciate mai dall'informatica. Ogni giorno c'è qualcosa. Ok, quindi ci si vede direttamente nei laboratori indicati, se ci fosse qualcuno che ha degli impedimenti, magari chi già al secondo anno delle sovrapposizioni eccetera eccetera, per qualche motivo avesse difficoltà a frequentare in quel turno, me lo dica, però che ci siano impedimenti reali perché altrimenti diventa il caos, se 250 persone dicono ma io preferirei perché alle 13 digerisco, quindi preferirei venire prima o altre cose. Ok, chiuso la parentesi. riflettiamo dal punto di vista della proiezione di algoritmi a ciò che abbiamo fatto la volta scorsa essenzialmente. Prendiamo questo. Questo è un esempio di questa slide semplificata del lavoro che abbiamo fatto insieme mercoledì scorso, ossia di riflettere sull'algoritmo per il calcolo del massimo condivisore, dove abbiamo letto la definizione di un problema, in questo caso essendo un problema matematico è stato facile, perché che cos'è il massimo condivisore ce lo dicono i matematici, non dobbiamo spiegarlo. È stato più difficile per assurdo fare l'esercizio del nome più frequente perché abbiamo dovuto spiegare tutto, che non del massimo condivisore, che è una cosa che tu apri il libro di matematica e ti dice, magari va avanti per tre pagine, ma è già scritto lì e quindi nel momento in cui io richiamo questo requisito so già esattamente di cosa sto parlando. Quindi abbiamo analizzato il problema, abbiamo cercato di capire che approccio dare alla soluzione, questa che abbiamo chiamato soluzione informale, io l'altra volta l'avevo chiamata strategia risolutiva. Abbiamo pensato, ma se provassimo tutti i numeri l'uno dopo l'altro, furba? Ci sembra una soluzione così sbagliata? No? Ci sembrava furba e allora l'abbiamo poi sviluppata in una soluzione più formale, ad esempio sotto forma di pseudocodice. Formale perché ci siamo dati un ordine, siamo dati per punti, abbiamo cercato di essere più possibili precisi su che cosa dovesse fare. Non te lo racconto a parole con termini più o meno vaghi. Cerco di essere preciso passo passo in modo da avere una rappresentazione precisa, formale dell'algoritmo che ho in mente e che voglio realizzare, dell'algoritmo che secondo me risolve il problema secondo la strategia che ho pensato. Dico secondo me perché poi che lo risolva davvero o no, lo vedo poi solo con i fatti, ma nei ragionamenti che faccio mi sembra che sia quello valido per risolvere il problema. E questi sono passaggi che faremo sempre. Di fronte a qualunque tipo di problema cominciamo a chiederci come lo risolvo, come lo approccio, da che parte lo prendo e poi una volta che ho capito da che parte lo prendo comincio a dettagliare come lo risolvo. Tutto questo senza sapere una riga o una singola istruzione di un linguaggio di programmazione non interessa. Qui non stiamo ancora pensando a scrivere in Python, in CIO, in Java o in quello che volete. Stiamo pensando a formalizzare il metodo di risoluzione di un problema. Questi tre passi all'inizio cercheremo di renderli più espliciti, poi più avanti alla fine ci diventano quasi intuitivi, quasi sottintesi, ma ci sono sempre nel nostro ragionamento. Non c'è mai il salto dal problema al programma, perché se no sto scrivendo istruzioni a caso. Poi capita invece spesso che il problema che ci viene dato da risolvere non sia così facile da poter digerire in un colpo solo. No? Allora questo qua, l'MCD, va bene. Ti so descrivere in poche parole come intendo risolverla, poi queste poche parole diventano magari 30 righe che abbiamo scritto l'altra volta di dettaglio e poi diventeranno un programmino e va bene. Ma se il problema fosse più complesso ci diventa anche difficile descrivere in un colpo solo. E allora il lavoro che dovremmo fare preliminarmente è quello di spezzare un problema in più sottoproblemi più piccoli, in modo da poter digerire uno per volta. Nell'analisi del problema, quando questo è complesso, dobbiamo semplicemente spezzarlo, dividerlo, separarlo in sottoproblemi più agevolmente risolubili. Quindi questo è il primo passo. Proviamo a fare un altro esempio che è qua proposto sulle slide. Qui ci propongono di sviluppare un algoritmo che ci permette di scegliere che auto acquistare. Ci siamo trovati i soldi in tasca e vogliamo acquistare un'auto. E sulla base di che cosa la possiamo acquistare? Ne abbiamo delle varie alternative più o meno efficienti, quindi che consumano più o meno carburante, che hanno un costo di acquisto più o meno elevato. E quindi io penso che per la prima auto conosco il prezzo di acquisto e l'efficienza dell'auto, quindi consumo in chilometro al litro, o litro per cento chilometri, dipende, poche unità di misura volete, e anche dell'altra auto. E però come faccio a decidere? Perché se l'auto che costa meno avesse un consumo inferiore, presto scelta, costa meno e è più efficiente. Ma il testo invece nella seconda riga mi dice che l'auto che ha maggiore efficienza è più costosa, quindi quella che ha maggiore efficienza, cioè un consumo minore, costa di più. Quindi mi conviene prendere l'auto che costa di più e consuma meno, o l'auto che costa di meno e consuma di più? Come tutti i problemi ingegneristici la risposta è dipende, dipende sempre la risposta giusta. Poi dipende da cosa? Dipende almeno a due fattori, quanti chilometri faccio all'anno e qui dice prevedi di tenere l'auto per dieci anni. E quindi il secondo fattore è il valore di vendita dell'auto tra dieci anni. Tra dieci anni quell'auto lì che era più economica la devo rottamare, oppure un'auto che ha ancora magari un prezzo di vendita di cui devo tener conto ovviamente. Quindi la domanda quale auto è più conveniente deve tener conto di tutti questi fattori, alcuni dati sono espliciti, altri dati invece in qualche modo li dobbiamo esplicitare noi. E questa fase di analisi del problema si può provare a schematizzare. Ad esempio dice quali sono gli ingressi e l'uscita del programma che dobbiamo scrivere? I dati di ingresso. Nel caso dell'AMCD i dati di ingresso sono i due numeri di cui volevo il minimo denominatore, nel caso dei nomi più frequenti i dati di ingresso dell'elenco degli studenti. Qui i dati di ingresso sono sicuramente quelli citati, cioè il prezzo di acquisto e l'efficienza dell'auto 1 e dell'auto 2. Poi un dato che non abbiamo citato prima non ci è venuto in mente, quanto costa il carburante. A saperlo, perché ogni mese qua cambia. Però non è indifferente. Quindi devo sapere quanto carburante consumerò, che dipende dall'efficienza del veicolo, dai chilometri che percorro e poi anche dal costo del carburante, perché se dici tu hai consumato in quest'anno 800 litri di benzina, per gli 800 litri di benzina non puoi confrontare con i 12 mila euro di acquisto, devi portare tutto chiaramente in euro, in un termine di misura confrontabile. Qui ci serve anche il prezzo al litro del carburante, chilometri percorsi e la durata di utilizzo del mezzo. E quindi cosa facciamo? Questo è semplice, nel senso una serie di passaggi lineari, non ci sono scelte da fare qua dentro. Semplicemente prenderò i dati di chilometraggio, di efficienza e sulla base del chilometri percorsi e dei litri di carburante, chilometri per litro o litri per 100 chilometri, poi devo solo non sbagliare la proporzione, ma è una cosa da terza elementare, calcolo quanto carburante consumo in un anno. Una volta che so quanto carburante consumo, so anche quanto spendo per quel carburante, perché basterà moltiplicare il carburante per il prezzo al litro e questo mi darà il costo operativo annuo dell'auto, a meno che non vogliamo aggiungere qua altri fattori come il costo della manutenzione, dei tagliandi eccetera eccetera, nel caso in cui possono essere diversi tra i due modelli di auto. E poi questi costi operativi annui li moltiplico per 10, che mi danno il costo operativo sui 10 anni e gli sommo il prezzo di acquisto dell'auto e questo mi darà il costo totale dell'auto. Quindi ho un programmino che fa una serie di somme e moltiplicazioni con uno di speciale e alla fine mi da un numerino che è il costo totale di quell'autoveicolo. Se dopo 10 anni pensassimo di rivenderla dovremmo aggiungere un altro dato in ingresso che è il prezzo di vendita, che ovviamente nel nostro calcolo andremo a sottrarre dal costo totale, perché quelli sono soldi che tra 10 anni mi rientreranno in tasca. Quindi questo è un problema molto semplice, però fermarsi un attimo a ragionarci ci ha permesso di evidenziare che dobbiamo capire se la vendiamo o no quest'auto, perché qui non è scritto, abbiamo pensato al costo del carburante che nella slide precedente non era citato e quindi magari se da qua avessimo cominciato a scrivere codice magari ci saremmo dimenticati e poi a un certo punto avevamo dei valori che non sapevamo come convertire perché ci mancava un dato di partenza e abbiamo cominciato nella nostra mente a già immaginarci un pochino le formulette, appunto sono formulette da terza elementare, moltiplicazione e divisioni, però già in questa cosa dell'efficienza ci si incasina sempre, perché non sai mai se sono i chilometri per litro o i litri per chilometro, non hanno un tal di misura simpatiche queste cose qui. E quindi il passo successivo qual è, avendo fatto questa analisi del problema? È formalizzarlo. Quindi finora ci siamo fatti una chiacchierata per convincerci tra di noi che fare quei calcoli che non ho ancora scritto, non li ho ancora formalizzati. Ho solo descritto quali sono i passaggi logici che intendo fare per risolvere il problema. Il passo successivo è quello di passare a una formalizzazione, scriviamo questo cavolo di formule, diamo dei nomi a questi valori, in modo che poi alla fine parliamo di qualcosa di concreto, non di parole. E noi abbiamo visto la settimana scorsa due modi diversi di formalizzare il problema, equivalenti, intercambiabili, che sono appunto lo pseudocodice e i diagrammi di flusso. E come già dicevo la volta scorsa, lo ripeto, è una questione molto spesso di preferenze, no? Perché alla fine l'informazione che ci metto è la stessa, l'informazione che posso rappresentare è la stessa. Il diagramma di flusso è più facile da seguire a occhio, però richiede più spazio, quindi un programma più complicato diventa magari più dispersivo, soprattutto se non lo fai in modo ordinato diventa ancora meno leggibile anziché più leggibile. Il pseudocodice forse è più semplice, più scarno anche, magari non riesce a fare annotazioni, è più difficile capire il flusso delle operazioni, ma allo stesso tempo è più compatto, occupa meno spazio. Però sono due forme alternative. E anche qua, quando ci accingiamo a tradurre un problema nei passi risolutivi, l'operazione che la nostra mente sta continuando a fare è di semplificare. Analisi. Abbiamo fatto l'analisi del problema. Analisi è un verbo che significa tagliare. Quindi noi stiamo tagliando un problema in una serie di passaggi più piccoli, ciascuno dei quali può essere un'istruzione del mio pseudocodice. Passaggi matematici, se siete abituati a trovare un'espressione complicata, è fare un passaggio per volta. E qui la stessa cosa. Con la differenza che non c'è un metodo predefinito per decidere quali sono questi passaggi, l'unico metodo è ragionarci su e trovare i vari passi. Per cui, adesso, questo lavoro l'ha già fatto a chi ha preparato queste slide, quindi noi ce lo troviamo già fatto, se no dovremmo farlo insieme. Però questo è un esempio di pseudocodice, fatto come elenco puntato, dove dico, allora, cosa deve fare questo programma? Per ciascuna auto. Quindi questa parola ciascuna, per ciascuna, mi fa capire che quel blocco di quattro istruzioni, quattro operazioni, non ne chiamo ancora istruzioni, scusatemi, quattro operazioni, andrà fatto due volte. Ci fossero sette auto, andrà fatto sette volte. Quindi all'avviso del pseudocodice qui sto indicando che quel blocco di operazioni viene ripetuto più volte. Ed è chiaro che le operazioni che vengono ripetute sono queste quattro. Perché poi, diciamo così, il rientro dell'elenco puntato ci fa capire che poi ho finito, poi faccio un'altra cosa. Quindi faccio il blocco 1, che è questo. Questo blocco 1 corrisponde alla ripetizione, due volte perché abbiamo due auto, di questi quattro sottoblocchi. Quindi faccio 1, 2, 3, 4, poi torno su e faccio 1, 2, 3, 4, di nuovo. Un po' come quando avete un ritornello nella musica. Poi finito questo, finito di ripetere o, come diremmo tra poco, iterare su questo blocco, passiamo al blocco successivo. Il blocco successivo si basa su un confronto, confronto di valori, costo totale 1 e costo totale 2, che provengono dai calcoli fatti nei passaggi precedenti. E questo è un blocco di tipo condizionale. Cioè c'è una condizione, se è vera una certa cosa, questo è il rombo del diagramma di flusso, se è vera una certa cosa fai una certa azione, se non è vera quella condizione fai un'azione diversa. Allora, nella semplicità di questo algoritmo qua dentro ci sono tutti gli ingredienti di un programma. Un programma alla fine è sempre una combinazione di dati, dati in ingresso, dati in uscita, dati intermedi, dati che contengono dei valori, li chiameremo variabili, queste cose che contengono dei valori. Elaborazioni fatte su questi dati, conti, calcoli. Elaborazione è una divisione tra un dato che conosco e un altro dato che conosco. Qui mi manca forse un blocco davanti che mi chiede l'immissione, l'input dei dati, ma non mi stava poi, si schiacciava tutto nella slide. Quindi ho dei dati, faccio delle elaborazioni su questi dati. Le elaborazioni avvengono in un ordine ben preciso. Ordine che normalmente è sequenziale, faccio la prima, poi la seconda, poi la terza, poi la quarta, operazione, ma questo ordine può essere modificato attraverso essenzialmente due, poi ne vedremo un altro paio, due operazioni chiave, operazioni di controllo. Operazioni di controllo significa controllano come viene e in che ordine vengono state queste istruzioni e l'operazione di controllo più semplice è l'alternativa, se o fai una cosa o fai l'altra. L'altra operazione di controllo è la ripetizione. Quindi alla fine un algoritmo significa prendere un problema e decomporlo pezzettini, fare pezzettini sempre più piccoli, fino a quando il singolo mattoncino in cui viene decomporato il problema è o un'operazione di input o un'operazione di output del risultato. Scegli auto 1, samper A, devi scegliere l'auto 1. O un'operazione di input o un'operazione di output o un'operazione di elaborazione dati, quindi un calcolo, una formula, o un'istruzione di controllo di tipo alternativa o un'istruzione di controllo di tipo ripetizione. Mi sono state sulla dita di una mano, di cui l'input e l'output fanno ridere. Quindi alla fine un algoritmo è fatto di scelte, ripetizioni e calcoli. Se riusciamo a decomporre un problema in una combinazione opportuna di questi tre signori, avendo all'inizio l'input dei dati e alla fine l'output dei risultati, abbiamo decomposto il nostro problema. Ovviamente deve essere preciso. Quindi questa scelta non è se l'auto va più veloce o se l'auto mi piace di più. No, devo dire che se, su una base di una condizione che sia certa, ma in questo caso se è un'uguaglianza matematica so se è vero o falsa. Non sempre, no, dovremmo fare disuguaglianze matematiche, però potremmo dire che se il cognome di una determinata persona è maggiore o minore degli intervalli del lettere che vi è dato nel laboratorio, allora sta in quel turno oppure no. In quel caso non c'è matematica, c'è ordine alfabetico. Ma quindi ci sono dei criteri diversi di scelta, non necessariamente devono essere numeri calcolati, ma la costante di tutto questo è che l'operazione deve essere chiara, univoca. Quindi la difficoltà nostra è a prendere un qualsivoglia problema e alla fine decomporlo in operazioni di questo genere, che sono piccole piccole. Il problema questo era molto semplice e già ci ha portato una pagina e mezza di codice, di pseudocodice. Una volta che siamo arrivati qua, scrivere il programma Python che risolve questo significa poco più che ricopiarlo. C'è una corrispondenza quasi uno a uno tra queste righe di pseudocodice e le istruzioni vere e proprie dei linguaggi di programmazione. Si tratta di imparare a scriverlo con la sintassi corretta, e vabbè. Ma la parte di ragionamento è finita. Comincia poi la parte di implementazione, quindi di ficcare questo ragionamento dentro i vincoli che mi dà quel linguaggio di programmazione. Come ad esempio far capire che questo costo totale non è una sola variabile, è un solo valore, ma sono due valori diversi, uno per la prima iterazione e l'altro per la seconda iterazione. Questo qua non è così chiaro. Perché qui c'è scritto una variabile che si chiama costo totale e qui sotto confronto il valore di una variabile che si chiama costo totale 1. Che non è la stessa cosa, si chiama nello stesso modo. Bisogna capire come gestire questo. Ma questo lo impareremo. Se abbiamo capito come funziona il meccanismo, poi si tratta di capire come tratturlo. Si tratta di imparare i tipi di dati più complessi, le operazioni che posso fare sui tipi di dati più complessi e così via. Quindi da un lato abbiamo un percorso top down che da un problema, una strategia risolutiva, top down dall'alto verso il basso, decompongo, 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 semplifico, semplifico fino a quando arrivo a delle cose che ogni riga di questo è banalissima. Poi contemporaneamente ci sarà un processo bottom up che conoscendo le funzioni che sono disponibili nel mio linguaggio di programmazione, so quale funzioni posso usare per implementare ciascuna di queste istruzioni. Devo poi agganciare al linguaggio di programmazione l'implementazione di questo algoritmo, che è quello che cominceremo a fare. E ovviamente è diverso a seconda del linguaggio di programmazione. Tornando all'esempio delle squadre di laboratorio, ci sono linguaggi di programmazione, come ad esempio il Python, in cui confrontare l'ordine alfabetico di due stringhe si fa semplicemente col segno di minore, non è un problema, è un'operazione predefinita. Ci sono linguaggi come il Java che richiedono una funzione opportuna che si chiama compare, compare to, per fare il confronto non posso usare semplicemente il minore, se no viene fuori una cosa che non c'entra niente. In entrambi i casi si può fare in modo più semplice o meno semplice o più contorto, a seconda delle caratteristiche del linguaggio. Ci sono alcuni linguaggi per cui alcune cose sono più semplici, altri linguaggi per cui alcune cose sono meno semplici. Ma questo è l'ultimo miglio, l'ultimo tratto del nostro percorso. Quello in cui dobbiamo poi mappare sull'operazione del linguaggio le operazioni che abbiamo già deciso. Vabbè, poi alcuni di questi esercizi sono ripresi nel laboratorio e quindi non ve li racconto insieme. E quindi ho parlato di linguaggi in generale, sì perché di linguaggi di programmazione ce ne sono tanti, noi qua ne abbiamo scelto di approfondirne uno che è quello che io ritengo che didatticamente sia quello di più presentabile. E a seconda del linguaggio possiamo avere alcune operazioni, diciamo che sono già predefinite nel linguaggio e invece in altri linguaggi no. Quindi ci sono alcuni linguaggi che hanno operazioni, dispongono già, allora immaginate di fare il confronto per una calcolatrice che abbia solo le quattro operazioni, più o meno per diviso, radice quadrata, via, perché siamo generosi, e un'altra calcolatrice scientifica di quelle che non vi fanno usare, con tutto seno, coseno, eccetera, eccetera. Alla fine i conti li potete fare a mano con la calcolatrice con le quattro operazioni o con la calcolatrice scientifica. Alla fine il risultato si arriva, con una fatica diversa ovviamente, perché se per caso devo fare una tangente iperbolica e ho la calcolatrice con il tastino, mi basta premere un tastino, altrimenti se ho la calcolatrice con le quattro operazioni, elevamento potenza, via, allora lo posso fare lo stesso, ma devo ricordarmi la formuletta, devo fare un passaggino. Mi richiede più passaggi per fare la stessa operazione, perché la singola operazione supportata dalla calcolatrice è più semplice. Con questo noi intendiamo che esistono linguaggi a livelli diversi, alcuni linguaggi più di basso livello, dove le singole operazioni sono più semplici, singole operazioni offerte dal linguaggio, come se avessero meno tastini. E linguaggi di alto livello, dove le singole operazioni, singoli tastini offerti dal linguaggio, sono già più complessi, più evoluti. E quindi, in certo senso, se io li so sfruttare, lavoro di meno, perché certe operazioni più di alto livello sono già predefinite all'interno del linguaggio. Lavoro di meno se riesco a sfruttarlo, attenzione, quel pezzo di frase non è da dimenticare. Io, una parentesi per chi di voi magari ha già visto il C, io vedo molto spesso gente che impara il Python, ma continua a pensare in C. E quindi vai giù con l'upani dati, quando in realtà, diciamo così, le funzioni che impareremo sulle strutture dati, sulle liste in Python, di solito ti evitano di fare tutte quelle contorsioni mentali a cui siamo abituati, quando il linguaggio non ci offre altro modo che farlo così. Chiuso a parentesi, chi non ha capito fa lo stesso, perché tanto chi non arriva dal C non può capire quanto si soffre. Quindi, abbiamo linguaggi di vario livello, che sono poi adatti ad ambiti diversi, non sto dicendo che il linguaggio ci faccia schifo in assoluto, è molto adatto a certi ambiti, quando effettivamente ho bisogno di molta velocità di esecuzione, operazioni magari di controllo vicino all'hardware del calcolatore, e allora è l'unica scelta. Invece, quando devo fare, non so, con parti grafiche, userò un sito web e alla fine probabilmente, anzi, tutti i siti web devono usare per forza il linguaggio JavaScript, e quindi è un linguaggio che funziona in quell'ambito lì. Python fa un po' di tutto, lo fa ad abbastanza livello, ad alto livello. Quindi, ogni linguaggio ha le sue caratteristiche, ha un set di operazioni predefinite diverso, alcune operazioni predefinite più semplici, e quindi dovrò lavorare di più, altre hanno operazioni predefinite più evolute, più di alto livello, e quindi se le so usare, lavorerò di meno. I linguaggi diversi possono avere prestazioni diverse, velocità di esecuzione diverse, occupazioni di memoria diverse, ma sono tutti dettagli, fatemelo dire. Sono tutti dettagli perché la cosa importante è che noi riusciamo a risolvere il problema, e quindi avere in mente un algoritmo risolutivo. Poi, da lì in poi, lavoro manuale, da manuense, di tradurre nei vincoli che mi offrono il linguaggio e l'ambiente di sviluppo su cui sto lavorando. Passare da un linguaggio all'altro, io a una persona non chiedo, sai il linguaggio tra dei tali, io gli chiedo, sai programmare? Se poi sai programmare e devi programmare in un linguaggio, piuttosto che in un altro, vabbè, te lo studi. Ma il bagaglio mentale di problem solving, di analisi dei problemi, di costruzione di un'procedura risolutiva, è comune a tutti i linguaggi. Quindi, da questo punto di vista, si sceglie poi il linguaggio di programma in funzione del tipo di problema e del tipo di ambiente in cui si deve andare a lavorare. Molti di voi fanno informatica, nel secondo semestre vi beccate un corso di C, e è giusto che sia. Però come prima introduzione abbiamo pensato a un linguaggio che sia, che dia meno ostacoli tecnici e quindi dove la difficoltà principale sia a questo punto quella più algoritmica. Questo per non parlare dei linguaggi ancora più di basso livello, quelli vicini alla macchina. Di tutti questi linguaggi che abbiamo citato, l'hardware del calcolatore non è in grado di capirne nessuno. L'hardware del calcolatore è in grado di capire un linguaggio che è ancora più di basso livello rispetto ai linguaggi, diciamo così, umani, leggibili dall'utente che abbiamo citato. Così detti linguaggi assembler, sono quelli legati all'hardware della macchina. Cioè i linguaggi all'alto livello ci permettono di scrivere cose di questo tipo qua. Se x è maggiore di 3, allora x uguale a x più 1, cose di questo genere. Istruzioni leggibili, magari possono sembrare astruse a prima vista, ma comunque... Però, nonostante il calcolatore di per sé sia in grado di fare le somme, di fare i confronti e di trasferire dei dati, questo uguale vuol dire prendi un valore da una parte e metti da un'altra parte, il linguaggio nativo con cui questo calcolatore parla è un linguaggio molto più di basso livello, come quello sotto, ad esempio, dove x, il nome della variabile x non esiste, ma abbiamo deciso che il valore di x lo mettiamo in una cella di memoria di numero 1000, ad esempio. E quindi devo dire al calcolatore che valori prende da quali cella di memoria, che cosa farci e in quali altre cella di memoria salvare il risultato. Avendo delle operazioni, se parliamo di mattoncini, delle varie calcolatrici, il linguaggio sembra dei mattoncini ancora più piccoli, ancora meno potenti. Per cui, ad esempio, io posso fare 1 più 3 più 7 più 8, quindi faccio una somma di tanti fattori, poi schiaccio uguale una volta solo alla fine, con il linguaggio sembra non posso, posso fare solo la somma di due numeri, poi vedere il risultato, poi eventualmente sommare un terzo del risultato. Quindi farò più operazioni, per una cosa che a più alto livello sembra un'operazione unica. Quindi questo è l'unico vero linguaggio che il calcolatore conosce e che per fortuna in questo corso non dobbiamo usare, perché lì effettivamente le difficoltà diventano veramente molto più difficoltà di codifica che non di programmazione. La programmazione c'è comunque, devo arrivare all'algoritmo, poi per implementare l'algoritmo non è solo trasformare nella sintesi opportuna, ma bisogna proprio ripensarlo perché il modello di elaborazione è molto vincolato, hai un numero finito di celle in cui memorizzare i valori, eccetera. Queste cose qua, quando farete architetture di calcolatori, calcolatori elettronici, eccetera, le andrete a toccare, a scoprire. Ma a quel punto avrete già un buon bagaglio di capacità di programmazione a monte per non spaventarvi di questo. Perché poi dentro l'alcolatore, noi facciamo i diagrammi di flusso dicendo, ok, leggi A, leggi B, leggi C, ma cos'è A, B, C? Concretamente. Beh, quando vedremo un pochino più da vicino l'architettura del calcolatore, vedremo che il calcolatore alla fine ha un unico banco di memoria di tante celle e ciascuna di queste celle non è che ha un nome, non è che c'è una cellula di memoria che si chiama A, una che si chiama C e l'altra che si chiama costo annuale della benzina. Sono numerate da cosiddetti indirizzi di memoria. E dentro ciascun indirizzo di memoria ci sta che cosa? Ci sta un numero che è un numero normalmente binario, in base a due. Il fatto di 0,11 ce l'avevamo la volta scorsa. Ci pensa il linguaggio di programmazione a cercare di astrarre rispetto a questa rappresentazione molto becera. Immaginate di avere una lavagna gigantesca con due miliardi di righe, 64 colonne e in ciascun quadratino può esserci uno 0,1,1. Questa è la memoria del calcolatore. Due miliardi per dire due giga di memoria, che sono pochi. al giorno d'oggi. Ecco, tutta questa marea di quadratini non ha un senso se la guardiamo così, ma attraverso i linguaggi di programmazione di alto livello riusciamo a dire che per noi c'è una variabile che si chiama X che rappresenta un valore intero e questo valore intero è 3. E il linguaggio sa che la variabile intera ci sta in una cella di memoria. Mentre invece, ad esempio, c'è un'altra variabile che chiamiamo T che è un numero reale, che ha un certo valore e il linguaggio di programmazione sa che un numero reale magari, in quel calcolatore, occupa due celle di memoria e qui nella cella di memoria c'è scritto meno 11 ma nella realtà c'è scritto 0,1,1,0,0,1,0 o quello che è. Una sequenza di 0,1 che vengono interpretati come quel numero. Tutto questo passaggio di codifica dell'informazione noi non lo vediamo più nei linguaggi di alto livello. Viene fatto per noi. Quindi noi quello che stiamo programmando in realtà non è il vero calcolatore cioè sì, stiamo programmando sul calcolatore ma ci stiamo programmando un calcolatore più furbo di quanto in realtà non sia. Il vero calcolatore sarebbe programmato vedendo le cose a questo livello ma per fortuna ci sono n livelli di traduzione che traducono le cose per noi in modo che quando scriviamo x uguale 3 per 7 lo possiamo scrivere in decimale lo possiamo scrivere con il segno di moltiplicazione possiamo dare il nome a una cella x anziché ricordarci che è l'indizio 102 e così via. Questo è ciò che caratterizza linguaggi di alto livello perché hanno dei costrutti che sono più vicini al modo di pensare del programmatore. E questi linguaggi cosa avranno? Quindi avranno essenzialmente qualunque linguaggio delle istruzioni base partendo dalle tre che ho citato prima input, output ed elaborazione e delle istruzioni di controllo che sono la scelta partendo dalle due che ho citato prima che sono quella scelta e la ripetizione. Quindi vuol dire che le cinque tipologie fondamentali le operazioni che abbiamo definito a livello di diagramma di flusso devono essere ovviamente supportate nei linguaggi di programmazione. Poi per nostra comodità vedremo che i linguaggi di programmazione magari di istruzioni di scelta ne hanno due o tre diverse e usiamo quella che c'è il più comodo oppure istruzioni di ripetizione ne hanno delle diverse. Ma il concetto è sempre lo stesso è solo che poi la realizzazione pratica a seconda di cosa devo fare avrò delle sintassi leggermente diverse che posso scegliere e mi dà più facilità mi dà più opportunità. Più altre istruzioni che potrebbero non corrispondere a istruzioni realmente eseguibili noi vedremo ad esempio in C c'è l'include in Python c'è l'import che sono le dichiarazioni che dicono questo programma usa questa libreria non gli sto dicendo nulla di operativo non gli sto dicendo fai una certa cosa dico che questo programma ha bisogno di una certa libreria e poi lui ci penserà a trovarla. Quindi ci sono istruzioni in più che sono istruzioni per preparare l'ambiente operativo che non fanno ancora parte del programma eseguibile vero e proprio. E ogni programma avrà il suo questo è un frammento di un ipotetico programma in un linguaggio inventato quindi non corrisponde non facciamo favore o sfavore a nessuno domani in ogni linguaggio di programmazione alla fine si ritrovano sempre le stesse cose operazioni elmetiche confronti assegnazione di valori creazione di variabili quindi dando dei nomi x, y, c si chiamano qua a dei valori e istruzioni di controllo qui c'è istruzioni di controllo si chiama if scritto in questo modo input output qui c'è un output che è un esempio di print i vari linguaggi di programmazione differiscono soprattutto nelle parole chiave che supportano e nel modo con cui rappresentano i dati ma alla fine la grossa famiglia di linguaggi procedurali su cui significato non entro si somigliano un po' tutti ok ad esempio in questo programma c'è tutta una parte di dichiarazioni prima che dice a me serve questa variabile a me serve quest'altra variabile questo è un numero intero questo è un numero reale è una parte esecutiva in cui ci sono veramente le istruzioni che il programma una dopo l'altra dovrà eseguire quelle prima servono al linguaggio di programmazione per predisporre quando vede x qua sotto saprà che x è una variabile intera in questo caso però queste regolette cambiano di linguaggio di programmazione sia come sintassi che come requisiti l'altro punto a cui dobbiamo sempre ricordarci di pensare quando sviluppiamo un algoritmo è sempre chiederci come facciamo a sapere che funziona prima ho detto una frase non so se la riesco a ripetere parola per parola ma era questo siamo convinti che sia il modo per risolvere per calcolare l'MCD è detto questa è la nostra convinzione fino a quando non lo dimostreremo che lo sia davvero e l'unico modo per dimostrarlo è provarlo provare a farlo funzionare allora a livello di pseudocodici io posso provare a simulare lo pseudocodice col ditino provo a fare la macchina stupida che dice ok questa operazione adesso leggi leggi A allora facciamo finta che ci sia 10 allora ok A vale 10 leggi B ok facciamo finta che sia 12 allora B varrà 12 poi l'istruzione dopo cosa dice e così via un'istruzione dopo l'altra provo a dimenticarmi che l'ho pensato io il problema cercare di non ricordarmi a che cosa serve ciò che ho scritto ma semplicemente eseguirlo linea dopo linea e vedere a che risultato arriva quando poi ho trovato il risultato mi ricordo che non sono stupido e mi ricordo che so qual è il risultato corretto e allora lo vado a confrontare il risultato corretto dalla mia conoscenza con il risultato calcolato meccanicamente dall'esecuzione del pseudocodice quando sono a livello di codice di programma vero e proprio farò la stessa cosa quando ho finito di scrivere il programma non dico finito consegno finito comincio a vedere se funziona proviamo vediamo verifichiamo e per verificare un programma uno deve sempre chiedersi quali sono i controlli allora se io faccio l'MCD e gli chiedo qual è l'MCD tra 10 e 12 e lui mi dice 2 vuol dire che il programma funziona? può darsi da solo quella prova non mi permette di concludere che il programma funziona se all'MCD tra 10 e 12 il programma mi rispondesse 3 sono sicuro che non funziona perché è sbagliato ma se mi risponde 2 mi dà una piccola iniezione di fiducia sul fatto che forse può funzionare allora riprovo con 6 e 3 e mi deve rispondere 3 quindi ho provato magari un caso in cui un numero è un multiplo di un altro che è un caso particolare posso provare con 0 e 7 cosa deve fare se uno dei due numeri è 0 è un casino non è definito cosa farà il programma non so cosa fare dobbiamo andare a vedere secondo me mi stampa un 0 o 1 forse mi stampa 1 ma magari l'MCD 0 e 7 matematicamente non è definito allora questo è un caso limite sui casi limiti ci siamo dimenticati di dire cosa succede il caso limite è 0 il caso limite è 1 il caso limite se i due numeri sono uguali l'MCD tra 3 e 3 fa 3 ma il programma magari dovrebbe funzionare anche in quel caso ma magari no cioè qui stiamo facendo un gioco in cui cerchiamo avendo creato il programma più bello del mondo cerchiamo di metterlo in crisi cercando di dare dei valori sensati per vedere se il risultato mi viene fuori sensato e dei valori meno sensati per vedere se lui comunque è in grado di accorgersi ah o che che problema che che la richiesta non è legittima non ha senso quello dell'auto se gli do un prezzo della benzina di meno 2 euro al litro magari il programma dice sì ti piacerebbe e si blocca non è che ti diamo un risultato in cui la Ferrari si paga da sola costa tanto ma poi dopo più vai avanti più ti da no non funziona così quindi dobbiamo sempre chiederci quali sono una serie di test cioè di prove che facciamo con il nostro programma prima le vedo il pseudocodice mentalmente con carta e penna e poi sul programma vero e proprio che alla fine ci convincano che il programma funzioni correttamente e ho detto ci convincano e ho detto ci dimostrino perché dimostrare non si può perché i casi possibili di input sono infiniti ci convincano nel senso che abbiamo provato tutti i casi che ragionevolmente ci sembrava che potessero capitare e in tutti questi casi il programma ha fatto la cosa corretta magari ci sono dei casi limiti a cui non ho pensato e allora magari il programma funziona bene anche in questi casi limiti e magari no se non ci ho pensato è un terno all'otto quindi in pratica ogni volta che pensiamo a una sfaccettatura del programma ok abbiamo acquisito i dati in ingresso il problema della macchina questi dati devono essere tutti positivi non ha senso che nel prezzo di vendita nel prezzo della benzina nell'efficienza energetica non devono mai essere negativi abbiamo dell'idea sui valori sul range di valori che possono avere tutta una serie di informazioni che abbiamo sui dati di ingresso che ci dicono quando sono validi e quindi dovremo poi provare il programma sia con i dati validi che con i dati non validi che con i dati al limite proprio per essere in validità una delle discussioni che abbiamo avuto durante il weekend sul gruppo è di dire ma questi cognomi sui gruppi del laboratorio sono inclusivi ed esclusivi cioè minore o minore uguale dovrei specificarlo perché è facile per una persona che inizia il cognome che inizia con la E è sicuramente tra la D e la F non ci piove ma quando mi avvicino al limite devo fare più attenzione ok se ci fosse una persona che si chiama veramente foi di cognome lo metto di qua o lo metto di là e ci fosse una persona che si chiama FOIR e questo è un baco del sistema mio perché FOIR viene dopo FOI in ordine alfabetico ma viene prima di FOJ e allora doveva finire nel buco tra i due quindi è sbagliato se non ho fatto casini non c'è nessuno che si chiama in quel modo in quel range però anche una cosa molto semplice come dividere non è così scontata ci sono dei casi limite quindi non ho pensato magari non c'era nessuno domani si scrive uno che si chiama così e mi salta tutto e c'è il laboratorio quando lo faccio ma è una cosa tua di notte farlo no quindi ricordiamoci sempre il messaggio qual è quando sviluppo un algoritmo di avere una buona idea di quelle che potrebbero essere una serie di input normali ragionevoli e una serie di casi limite e lasciamoci del tempo alla fine per testare questi casi e per correggerli eventualmente perché io sono i test da fare ho elencato dieci casi che voglio provare e quando i primi set vanno bene arriva l'ottavo non funziona e allora vorrei dire che devo tornare sul programma oppure tornare sull'algoritmo e andare a capire perché non funziona e quindi all'inizio come vi ho accennato già normalmente ci si mette quasi tanto tempo a scrivere il programma quanto per verificarlo e correggerlo poi dopo magari si migliora un po' ma è comunque tempo che ci serve ok in questo contesto proviamo a spendere l'ultima mezz'ora per cominciare ad introdurci effettivamente all'ambiente Python al linguaggio Python poi domani inizieremo con le variabili con i primi costrutti eccetera però adesso cominciamo a vedere come ci si muove allora Python come vi dicevo era un linguaggio che era nel video che vi ho postato la settimana scorsa linguaggio costruito da questo signore a cui non piacevano le caratteristiche dei linguaggi di programmazione che esistevano e se ne ha inventato un altro vabbè poi ha avuto molto successo questo linguaggio per due motivi essenzialmente che sono elencati qua il primo che ha una sintassi molto semplice e lineare rispetto ad altri linguaggi che hanno sintassi più complicate quindi più facili da imparare perché hai meno regolette sintattiche poi non sono quelle che ti danno in carico cognitivo c'è la difficoltà operativa le regole sintassi però aiuta ad avere una cosa più semplice ma soprattutto più regolare nel senso che non ci sono casi particolari diversi a differenza di altri linguaggi quindi questo dava una buona facilità di apprendimento e poi la seconda è che l'ambiente Python arrivava già arriva già con una serie di librerie predefinite di funzioni predefinite allora ogni linguaggio come dicevo prima sui tasti della calcolatrice arriva già con una serie di funzioni predefinite poi se ne posso sempre aggiungere altre però come versione base ogni linguaggio ha quella che si chiama normalmente libreria standard libreria è una traduzione sbagliata dall'inglese library standard library ovviamente library vuol dire biblioteca quindi la biblioteca è un insieme di volume un insieme di informazioni un insieme di cose quindi noi dovremmo dire in italiano una biblioteca standard solo che tutti dicono libreria quindi diciamo libreria sembra che non senti niente infatti è una biblioteca di funzioni di azioni di operazioni che posso fare allora la libreria standard contiene le funzioni già comprese nel linguaggio nel momento in cui lo installo quindi quando voi avete scaricato dal sito di python qui l'interprete del linguaggio python poi vediamo quello di interprete avete automaticamente scaricato anche questa libreria standard fatta di svariate migliaia di funzionalità già comprese infatti Van Rorsum diceva che python è un linguaggio con le batterie comprese batteries included presente quando vai a comprare un giocattolo ti regala un giocattolo a Natale giocattolo a batteria allora ti arriva il giocattolo ma non ha le batterie dentro e il giorno di Natale ovviamente i negozi sono chiusi e tu non puoi giocare perché non hai le batterie molti linguaggi di programmazione sono un po' così linguaggio ha tante potenzialità ma non ha tutto ciò che ti serve per poter lavorare ecco python ha avuto ha avuto un approccio molto ampio di dare già in qualunque installazione già una marea di librerie disponibili e questo permette di semplificare l'installazione cioè se devi far girare un programma scarichi python lo fai partire se dovessi farlo in cid devi scaricare il compilatore poi quella libreria poi quell'altra poi installarlo nella cartella giusta poi compilarlo eccetera eccetera passi due ore prima di aver scritto una riga di codice solo per preparare l'ambiente in cui lavorerai ecco da questo punto di vista python è molto più immediato il python che abbiamo scaricato che cos'è? è un interprete interprete che cos'è? è un programma quando avete scaricato il programma python da python.org l'avete installato nella vostra macchina questo programma è capace a leggere le istruzioni che scriviamo noi e tradurle interprete in linguaggio macchina quello brutto quello è il suo lavoro quindi man mano che scriviamo istruzioni lui prende l'istruzione traduce in linguaggio macchina e dice al computer fai quello esegui quello riga dopo traduce in linguaggio macchina fai quello e così via quindi è molto immediato rispetto ad altri linguaggi di programmazione non c'è un passo che a volte viene chiamato di compilazione cioè di traduzione del programma in versione eseguibile proprio perché la traduzione avviene durante l'esecuzione quindi anche lì basta che ci appiggiamo un tastino e il programma parte come è fatto l'ambiente python allora qui ho messo solo i link più importanti che è quello per scaricarsi l'interprete e il sito in cui c'è la documentazione ufficiale di python stesso documentazione ufficiale che andremo a volte a consultare quando magari abbiamo dei dubbi su come funziona una certa funzione non c'è una funzione scusate il gioco di parole una certa opzione di una funzione non mi ricordo esattamente com'è sulle slide non c'è ma perché le slide mica sono la bibbia sul libro devo andare a cercare lì ho l'elenco alfabetico di tutte le funzioni con tutte le opzioni possibili ci vuole un attimo per imparare anche a consultarla questa documentazione ufficiale perché a volte non è scritta in modo del tutto intuitivo lo è quando uno comincia a ragionare da programmatore però all'inizio sembra che non gli dica le cose che invece gli servono quindi proprio quando faremo programmini insieme molte volte proprio andremo a cercare se abbiamo un dubbio cosa dice la documentazione ufficiale sul funzionamento del programma poi ho messo questi altri link in particolare il primo ci sono molti tutorial su vari argomenti a volte nelle slide più avanti anche un argomento che magari secondo me non è trattato molto bene nel libro troverete un link a questo sito real python che secondo me è fatto bene non ho detto ma mi sembra ormai scontato a questo punto che la maggior parte dell'informazione del materiale è in inglese e questo diamo per scontato che non sia un problema anche perché non lo deve essere ma è semplice la documentazione tecnica è sempre molto semplice poi c'è anche molto informato il libro che è il testo ovviamente ce l'abbiamo anche in italiano però le risorse che trovate online quasi sempre c'è un rapporto di uno a diecimila tra ciò che trovate in italiano e ciò che trovate in inglese quindi cominciate ad abituarvi ok allora un programma in python che cos'è? non è altro che un file di testo che contiene delle istruzioni scritte secondo la sintesi python che poi dato in pasto questo file di testo all'interprete python fa sì che l'interprete lo esegua una riga dopo l'altra quindi basterebbe aprire blocco note e cominciare a scrivere e ne stiamo già scrivendo programmi python e si può fare ma a volte può essere più comodo avere dei programmi dedicati che ci aiutino a sviluppare in python ma per dimostrarvi che è vero basta farlo se io prendo un blocco note e ci scrivo dentro un programma in python vediamo se riesco a ingrandire ad esempio print aperte virgolette ciao chiuso i virgolette chiuso a tonda questo è un programma in python poi impariamo la funzione print tra poco lo salvo da qualche parte e perché lui lo riconosca devo salvarlo con un'estensione non txt ma con un'estensione py quindi vediamo un attimo di salvarlo qua in una cartella che conosco ok ciao punto py qui ho scritto e ho salvato un programma in python poi non capita niente non capita niente fino a quando non chiedo all'interprete python di eseguirlo ah no qua non funziona scusate quindi dovrò aspetta che dove aspetta eh program files python eccolo qua allora io ho installato qui non si vedono vediamo se riesco a ingrandire anche questa sì quando ho installato il programma su windows lui ho installato l'interprete python che è un programma che si chiama python.exe da qualche parte sul mio computer quindi se io dico al mio computer qui ho aperto la finestra di comando una command prompt direttamente nel sistema operativo quindi dando i comandi a basso livello senza finestra grafica e tutto dico questo è l'eseguibile di python è l'interprete python e dico caro python esegui il file il programma che c'è nel file dunque che ho salvato sulla cartella data teaching informatica 2022 settimana settimana 2 ciao ciao punto py quindi l'interprete python che è salvato o è stato installato in quella cartella esegui questo file che ho salvato in quell'altra cartella avendolo scritto col blocco note è questo qui quando faccio invio lui scrive sotto ciao cos'è questo ciao è l'output del programma qui non c'è bisogno d'altro l'interprete python è installato io scrivo il mio programma e dico l'interprete python eseguilo e lui lo fa senza che ciao gli avessi chiesto anche quanto fa 3 più 2 e salvo ovviamente torno qua ridò questo stesso comando e lui mi stirerà 5 ciao 5 è difficile emozionarsi di fronte a questi programmi però è il primo passo questo è l'esecuzione di un programma senza alcun ambiente di sviluppo lavoriamo beceramente con i singoli file per lavorare un po' comodamente mi piacerebbe avere un programma che mi permetta di essere un pochino più agevolato per questo vi abbiamo chiesto di installare anche il programma PyCharm che è uno dei vari ambienti di sviluppo che ci sono per python in cui non è che posso fare niente di più rispetto a quanto facevo prima direttamente con un file di testo e blocco note però lo faccio in modo più comodo ad esempio questo è l'avvio del programma di PyCharm e la prima cosa che mi chiede è di creare un nuovo progetto allora PyCharm ragiona per progetti un progetto può contenere tanti file al loro interno e ciascun file python può essere un programma indipendente dagli altri che però decidiamo per nostra comodità di raccogliere in un unico progetto quindi un progetto è un contenitore di più file contemporaneamente questi vari file possono essere tanti programmi diversi o possono essere dei pezzi di un unico programma molto grande questo a PyCharm non interessa però prima di cominciare a scrivere un programma lui mi chiede dimmi qual è il progetto cioè anche la cartella in cui salvarlo allora io clicco su nuovo progetto e mi chiede qui sto usando la versione education la versione edu la più semplificata di PyCharm ok se avete installato la versione community a questo punto c'è una videata in mezzo che vi chiede che tipo di progetto vuoi e voi selezionate un progetto pure python semplicemente in python qui mi chiede qual è la cartella in cui salvare creare questo nuovo progetto quindi chiamiamo il progetto ciao posso andare qua a fare sfoglia cartelle vedo dove salvarla e ne creo una nuova qua sotto mi sta dicendo questa è la cartella in cui salverò il mio file qui mi sta dicendo qual è la versione di python che vuoi usare questo qua era quello di prima che ho usato già prima vedete program file python 3.10 solo che pycharm l'ha trovato da solo ogni progetto ha associato una versione di python che lo farà funzionare lo farà eseguire questo perché se sul computer avete installato varie versioni ogni progetto ha la sua normalmente non abbiamo bisogno di toccare nulla in questa sezione qua crea così abbiamo creato il progetto lui si predispone crea un po' di cartelle che sono qua su sfondo giallo che è roba sua interna dove c'è la libreria standard tanto per capirci ma noi non interessa vederle e abbiamo praticamente un progetto sulla sinistra abbiamo i file del progetto e sulla destra abbiamo il contenuto di questi file quindi per fare il nostro esempio posso andare devo creare un nuovo file per creare un nuovo file all'interno del progetto un modo può essere di posizionarsi sulla cartella di progetto fare new python file la stessa cosa ce l'ho anche dal bottone file new la stessa cosa python file mi chiede il nome del file python e a questo punto mi ha creato un file vuoto all'interno del progetto dove per farvi vedere che è la stessa cosa io posso fare copia e incolla di questo e poi posso provare a eseguirlo quindi sulla sinistra ho la cartella di progetto che ho creato quando ho creato un nuovo progetto che contiene i file di progetto sulla destra ho il contenuto di questi file che posso scrivere modificare aggiungere correggere eccetera e in più ho la possibilità di eseguire questi programmi vedete questo freccione verde significa esegui quando clicco questo il mio PyCharm dirà all'interprete python esegui questo programma e l'output del programma l'input e l'output del programma compariranno in una finestra che sta sotto che compare sotto una finestra che si chiama run cioè run vai esegui parti qui noi lavoreremo in un ambiente che ha queste tre finestre qua il file sulla sinistra il programma sulla destra e l'output l'esecuzione del programma in basso la versione community non ha il freccione verde qua ma ce l'ha in alto sopra o se no si può sempre prendere sul nome del file che dobbiamo eseguire tasto destro esegui ciao nel dubbio poi pareremo a usarlo no? l'altra cosa che notiamo in questo ambiente di sviluppo è che a differenza della versione blocco note è più carino non solo è più facile fare eseguire il programma perché non devo scrivere quel comando astruso per cui mi avete guardato storto ma vedete che tra virgolette l'ha scritto in verde il ciao e il 3 più 2 l'ha scritto in blu anzi il 3 e il 2 sono stati scritti in blu perché in qualche modo l'ambiente di sviluppo capisce che sto scrivendo qualcosa in python e mi evidenzia con colori diversi con notazioni diverse le varie parti della sintassi del linguaggio e in più mi aiuta anche perché se io dimenticassi questa parentesi tonda mi mette un segno rosso per dire ciccio cosa qua non va non mi quadra non riesco a capire cosa hai scritto perché non hai seguito le regole opportune cosa che invece il blocco note poverino che ne sa lui quindi mi aiuta anche nello scrivere perché in qualche modo mi evidenzia la sintassi ovviamente non può capire se il calcolo che sto facendo è giusto o no abbia un senso oppure non abbia un senso se ho sbagliato la formula del delta dell'equazione di secondo grado non può saperlo però se ho sbagliato mettere parentesi nella radice quadrata sì mi corregge semplicemente gli errori mi evidenzia non mi corregge gli errori non corregge solo evidenzia gli errori di sintassi tra l'altro se io provassi a eseguire questo programma così fargli run perché ovviamente l'ambiente di sviluppo mi aiuta ma non mi costringe non mi obbliga io posso fare run e a questo punto sarà python stesso questa è una finestra di run che mi dice guarda io ho provato a eseguire questo programma però alla linea 1 che è l'unica c'è già un errore che questa parentesi qua non è mai stata chiusa quindi un programma che contiene degli errori di sintassi vabbè l'ambiente di sviluppo me lo segnala ma soprattutto è un programma che non può partire il lavoro da traduttore che fa a python non può tradurlo se la frase di partenza è scorretta se dovete fare una traduzione da un'unica a un'altra e la frase di partenza è sconclusionata non c'è il verbo eccetera cosa traducete non ha senso e quindi non puoi farlo quindi gli errori di sintassi vengono bloccati subito gli errori di logica un po' meno per cui se io anziché scrivere ciao mi è scappato il dito sulla tastiera è un saluto molto più prolungato ma non era quello che volevo è sbagliato magari ma in senso funzionale cioè fa la cosa sbagliata ma dal punto di vista sintattico è corretto dal punto di vista del linguaggio fa una cosa che può essere corretta che ne sa lui quindi ovviamente gli errori logici saranno molto più difficili da trovare degli errori di sintassi questo è l'ambiente in cui lavoreremo per buona parte del tempo volevo presentarvi anche un altro ambiente di esecuzione che può essere comodo magari quando siete su un computer su cui non c'è installato python o altro che è il sito replit.com questo sito qua bisogna crearsi un account su questo sito ma poi praticamente è un ambiente di sviluppo online quindi qua sono su un sito web replit.com ho i miei programmi che lui chiama il repl e posso creare nuovi create c'è un bottone create qua posso creare un mio programmino mi fa scegliere in quali linguaggi lo voglio creare perché questo ambiente di sviluppo supporta vari linguaggi diversi scegliamo un linguaggio in python lui si inventa un nome strano se ci piace questo nome strano se non ci interessa stiamo solo facendo una prova al volo così lasciamo questo nome strano altrimenti diamo un nome che abbia un senso crea quindi prima ho lavorato sul mio computer usando PyChamp che avevo installato prima qua invece mi sono collegato a questo sito quindi lo potete fare da un tablet lo potete fare dal computer di un amico quello che volete e abbiamo anche qui un progetto online che ha più o meno la stessa struttura sulla sinistra ci sono i file sul centro c'è il programma e sulla destra c'è l'output l'esecuzione del programma normalmente non è così lento volevo farvelo vedere ma non collabora ah si è proprio bloccato ok si è bloccato proprio il browser bene allora riproviamoci eccoci qua quello che ho appena creato dovrebbe essere creiamo un altro nuovo perché non mi ricordo come si chiamava python ok e qui c'è lo chiamo main.py in cui posso scrivere un altro messaggio ah qui ho scritto print e quindi sarà infatti anche lui vedete che me lo segnala dicendo guarda questo print non esiste ah vero doveva essere print il comando quindi anche qua posso creare dei file posso scrivere il programma e lui mi colora mi aiuta perché sono 17 mi segnala l'eventuale problemi di sintassi e poi se voglio se tutto va bene facendo run l'output del programma e l'eventuale input che posso richiedere lo trovo nella colonna di destra e il file me lo trovo salvato su questa piattaforma repl poi se voglio me lo posso salvare sul mio computer facendo esport oppure facendo copia e incolla ma i due sistemi sono assolutamente analoghi assolutamente equivalenti perché tanto alla fine stiamo scrivendo python che viene eseguito dall'interprete python che è standard quindi le interfacce possono essere diverse ma i programmi che scriviamo saranno identici e il modo in cui vengono eseguiti sono anche identici alla fine sono tutti ambienti che ci facilitano rispetto a lavorare appunto a basso livello col blocco note ma che ci agevoleranno parecchio la vita nel seguito qui ci sono tutte le slide con queste cose ma sto guardando se c'era qualcosa da vivere all'ultimo momento sì vi rubo ancora un minuto per dirvi una caratteristica di python che invece non è comune a molti altri linguaggi che è quella di poter essere usato un'istruzione per volta ad esempio io torno qua se non gli do il file da eseguire l'interprete python si mette in ascolto mette quei tre freccioline lì che mi dice dimmi ah io voglio sapere quanto fa 3 più 2 voglio che tu mi stampi abc quindi anziché preparare l'istruzione in un file posso eseguire una per volta non lo farò mai perché non mi basta un'istruzione per risolvere un problema mi serve un programma fatto di più passi però tante volte per testare la sintassi per vedere come funziona una funzione o cosa è molto comodo avere la possibilità di eseguire un'istruzione così al volo questo lo posso fare anche dentro PyCharm in questa etichetta che si chiama in questa linguetta che si chiama python console se cliccate su python console bisogna dargli un permesso e poi qua sotto ti permette di scrivere anche qua istruzioni python facciamo sempre il solito 3 più 2 io qua scrivo le istruzioni e lui mi scrive sotto il risultato un'istruzione per volta e la stessa cosa anche su replit 33 diviso 6 video 4 fa 825 quindi normalmente scriviamo un programma completo e chiediamo all'interprete di eseguire il programma completo un'istruzione per volta ma lo faremo molte volte per provare per imparare per verificare possiamo anche eseguire un'istruzione solo per volta all'interno della console vedete che sia in replit la chiama console che PyCharm la chiama console quindi un interprete interattivo in python su cui posso provare delle istruzioni il resto lo vediamo mercoledì grazie